Vuoi ricevere informazioni sui servizi pubblici e privati? Vuoi fornire dei suggerimenti per migliorare i servizi? Vuoi segnalare un disservizio? A Pomezia puoi rivolgerti allo sportello consumatori finanziato da città metropolitana di Roma capitale e dalla città di Pomezia e aperto in collaborazione con il Codacons. Lo sportello consumatori è presso la delegazione di Torbaianica in Piazza Ungheria 10. Un servizio volto a informare e educare i cittadini sui propri diritti, difenderli e tutelarli in caso di problematiche, orientarli verso scelte più consapevoli. Uno spazio che mira a migliorare il livello di conoscenza dei cittadini sul funzionamento delle strutture pubbliche e private che erogano i principali servizi a tutela dei consumatori. I cittadini al primo posto, sempre.